Il futuro dello sviluppo dell'aeroporto a Costa d'Amalfi di Salerno affronta un passo decisivo nell'udienza in programma il prossimo 4 giugno contro la decisione del TAR di annullare il decreto di valutazione di impatto ambientale. Accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di cittadini, i giudici del Tribunale amministrativo hanno annullato sia il decreto del Ministero dell'Ambiente che sanciva la compatibilità ambientale del Masterplan che l'intesa sigla tra Regione e Ministero dei Trasporti che sanciva la compatibilità urbanistica dell'opera. Una scelta, quella del Tribunale amministrativo, naturalmente contestata dalla GESAC, l'attuale gestore dello scalo salernitano, entrato a far parte della rete del sistema aeroportuale campano con l'aeroporto di Napoli-Capodichino. Il 4 giugno si confronteranno ancora una volta le ragioni dei residenti che difendono 56 ettari di terreni e case, pari a circa 60 campi di calcio di Serie A. Ricordano i richiedenti con grave ricaduta di problemi di inquinamento e salute ed una riduzione certa della qualità di vita per i cittadini che vi risiedono e per l'agricoltura prodotta. I cittadini ricorrenti non desiderano soluzioni alternative, ricordano ancora oggi in un comunicato stampa, né altre soluzioni sono da perseguire. Ma dall'altra parte c'è la GESAC che con il supporto della Regione Campania ha messo a punto un piano di rilancio che, attraverso la creazione del sistema regionale aeroportuale, salva Salerno ma aiuta anche Napoli, i cui volumi di traffico, ma parliamo ovviamente del periodo pre-Covid, erano ritenuti tanto elevati da essere ormai insostenibili per Capodichino. Intanto per mercoledì a Salerno la Filt CGL Campania atterrà, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, una conferenza stampa per illustrare le iniziative sindacali che sono state attuate per supportare lo sviluppo della rete aeroportuale campana e con essa dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, proprio in occasione dell'udienza del Consiglio di Stato prevista per il prossimo 4 giugno.